Per assicurarti di raggiungere il successo dentale, oggi, ti presenterò il quadrilatero della prevenzione. Ancora non ne fai parte! Migliaia di tuoi colleghi nel mondo considerano Cavitron un elemento fondamentale per il successo dentale. Con Cavitron i pazienti, anche quelli più sensibili, apprezzano il trattamento senza alcun trauma, grazie all'azione delicata sullo smalto e confortevole negli spazi interprossimali e sottogengivali. E l'operatore dentale lavora nel massimo comfort grazie alla tecnologia TAPOL, che risolve il problema dell'affaticamento della gamba. Per questo i tuoi colleghi nel mondo non ne possono più fare meno. Per questo i pazienti lo richiedono. E tu? Cosa aspetti? Densply. For better dentistry.